Due nuovi contagi da Covid-19 nella città di Agropoli. A renderlo noto il sindaco Adamo Coppola nella serata di ieri. Ho ricevuto aggiornamenti dall'Asel in merito a due nuovi casi di contagio da Covid-19 nella nostra città che riguardano una precedente catena di contatti. Nel contempo ci sono anche due guariti, quindi ad oggi i positivi sono 44, mentre i guariti totali dall'inizio della seconda fase della pandemia salgono a 78. Riscontrati anche nella città di Capaccio Pestum quattro nuovi cittadini positivi al Covid-19 e sei nuovi concittadini che, negativi all'ultimo tampone di controllo, possono essere considerati guariti. Il totale degli attuali positivi nella città dei Templi si aggiorna a 112 unità, con 228 persone in isolamento domiciliare e 105 guariti totali. Tre nuovi casi di positività al virus Covid-19 accertati anche nel comune di Roccadaspide e due dei precedenti contagiati sono stati dichiarati guariti, pertanto l'attuale numero di positivi nel comune è di 21 persone. Tre nuovi cittadini positivi al Covid-19 si sono registrati anche nel comune di Moio della Civitella, che portano il totale di cittadini positivi al Covid-19 a 10. Continua invece a non registrare contagi il comune di Castellabate, che nella giornata di ieri ha ricevuto notizia dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asla di Salerno di altri quattro cittadini guariti dal virus. Attualmente i positivi nel comune di Castellabate sono 7, con 39 persone guarite.